Oggi parliamo di upgrade per smart worker, che vuol dire come prendere il nostro alloggio, appartamento, casa, villa, quello che abbiamo, e renderlo più compatibile per gli smart worker, intesi sia per quelli che vengono a stare poco, che per quelli che vengono a stare molto. Questo inventario comincia con la cucina. La cucina pensata per il turista è diversa dalla cucina pensata per lo smart worker. È limitato, quindi lasciamo le lampadine per tutta la casa, in modo che 60 lampadina ti chiama e dici guarda le trovi nel cassetto in basso a destra, cambia la te, insomma, 115 euro ed è molto carina. Fate un po' voi la scelta, però attenzione a considerare un paio di aspetti. Questa è abbastanza cara, 35 euro, quasi come la scrivania, farà vedere un angolo ufficio bello pompato, non ho persone che viene dalla famiglia, ma il papà o la mamma ha il computer e ha bisogno di uno spazio per lavorare.